Quando avrai letto queste righe non ci sarò più. Volevo congedarmi da te con un atto di verità, volevo con te rimettere in fila gli anni e le cose che abbiamo fatto insieme, la gioia dei giochi. Volevo rammentarti la quantità di ricordi e spero valori che ho provato a consegnarti. Conosco il tuo cuore, la sua forza, le sue ferite. La mia generazione ha fallito, volevamo consegnarvi un paese migliore e invece ci ritroviamo seduti su un cumulo di macerie. Ho vissuto intensamente, ho creduto in un sogno collettivo e sono battuto per coraggio e per paura. Ho visto le nostre ragioni trasformarsi in incubi. Ho pianto di rabbia per Budapest, ho urlato per Praga, ho salutato con occhi nuovi la generazione che doveva trasformare il paese. Ho coltivato il dubbio e l'eresia e ho sofferto nel vedere il mio partito spingere nel baratro la gioventù in rivolta. Un partito incapace di comprendere che quella era l'ultima occasione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.